Maicon, ecco Pjanic, lo scambio fra i due, grande palo, Maicon, parla sull'esterno della rete, Matte Cassano ancora sotto lo palo, vuole che passa, e Bianbiani, che da pochi passi non trova lo specchio della porta, Luzona Gargano che apre bene per Cassani, e la cross Pjanic che gira, è ancora da Parma, c'è la tappa, Pjanic, 39 minuti, Parma è in avvantaggio Lotto ancora gli Aic, guarda che schizza da parte di Pjanic, c'è spazio per Florenzi, che pensano le gole, Florenzi, è pareggio della Roma, dopo un minuto e mezzo, leva il secondo tempo, pareggio della Roma, ancora in gol, Alessandro Florenzi Cassano, che va sul fondo, in lacrosse, morbido, troppo alto per Bianbiani, allontana di Aic, ma non chiammi, la parla che passa, ma non trova lo specchio della porta, De Rossi, Strotman, parte Totti, posizione regolare, Totti, 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 e la Roma è in vantaggio al venticinquesimo minuto, il gol di Francesco Totti e Gervinio in velocità con Cassani, è uno contro uno, prova di montare Marchioni, arriva Borieno in mezzo, muovete Gervinio, va da uno contro uno, Gervinio, grande azione, va giù Gervinio, è del rigore, parte Strotman, che scende alla soluzione di potenza e fa bene, 3 a 1 per la Roma, e finisce qui, la Roma, parte Parma, 3 a 1, in rimonta e guadagna la venta della classifica.